In piedi sui pedali è un'autobiografia attraverso il racconto di tutte le biciclette che ho amato dalla numero uno, quella sulla quale ho imparato a stare in equilibrio in cortile passando per la bicicletta dei primi innamoramenti raccontata in Jack Frusciante uscito dal gruppo fino alla Bionda, la mia bicicletta attuale perché andare in bicicletta è una perfetta metafora della vita serve tenacia, serve spirito visionario e soprattutto serve amore per la libertà e capacità di stabilire da soli la propria tabella di marcia